Benvenuti al canale Cagliari News, la vostra fonte di notizie calcistiche. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere le novità del Cagliari. L'obiettivo principale del club rossoblu è trovare un attaccante di spicco, una necessità accentuata dalla ricerca della riabilitazione di Gianluca Lapadula. L'intervento necessario per recuperare il giocatore italiano ha rafforzato la necessità di acquisire un primo attaccante di qualità per la rosa. Tra le opzioni valutate dalla squadra italiana, spicca Bruno Petkovic, attualmente al Dinamo Zagabria. Secondo le informazioni pubblicate nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Cagliari mantiene un forte interesse nel giocatore croato nato nel 1994. Il club ha dimostrato di essere disposto a investire 5 milioni di euro per assicurarsi l'acquisizione del promettente attaccante. Tuttavia, non tutti i dettagli sono allineati. La differenza tra le aspettative salariali rappresenta un ostacolo da superare. Mentre il Cagliari è pronto a offrire uno stipendio di 1 milione di euro al giocatore, Bruno Petkovic ha espresso la sua preferenza per ricevere 1,5 milioni di euro. Ehi tifoso rosso-blu, tu pensi che Petkovic sia un buon sostituto per Lapadula? Lascia la tua opinione nei commenti, poiché è molto importante per il Cagliari.